ciao a tutti e bentornati con una volta su indycam play ita oggi andiamo avanti con i tutorial su archage perché la volta scorsa vabbè abbiamo espanso il campetto vi ho fatto vedere come portarlo da 8x8 a 16x16 quadro piccolo di dimensioni ma la volta che avevamo ottenuto il campetto 8x8 avevamo accettato una quest che si chiamava sent to the swamp che cos'è la quest che andremo a fare adesso che ci porterà ad esplorare il mondo delle proficiency le proficiency sono diciamo dette volgarmente le professioni e il gioco ci consente di portare una di queste a il secondo livello a 10.000 punti e la professione che il gioco ci aiuta a portare in alto è alchimia che tra l'altro pare essere anche una delle più importanti del gioco perché ovviamente quando sale una professione a livelli alti ci consente di fare più cose insieme quindi più craftare ad esempio quello che fa lo smelter diciamo ci consente di fare invece che lo smelting di 1 2 3 lingotte alla volta di farne 10 alla volta quindi insomma di dimezzare i tempi allora quello che facciamo ora è andare all'asta compriamo delle hereafter perché non ne ho quindi ne compro una decina così che posso teletrasportarmi e andiamo subito raggiungiamo subito la zona in questione usiamo il teletrasporto dobbiamo andare in una vicina quindi andiamo da allora dobbiamo andare a air swamp esattamente dovrebbe essere qui la zona che ci porta ovviamente se avete dubbi andate nella quest vi dice map e vi dice andate lì quindi ad alziona noi andiamo in uno dei punti più vicini quindi in questo caso quello lì vediamo subito e andiamo ad accettare la questa a consegnarla insomma e cominciare questo questo viaggio ed eccoci arrivati al community center di air swamp dette anche dei paludi infernali la paluda infernale accettiamo la quest e ora iniziamo il percorso che ci porterà a potenziare l'alchimia abbiamo una quest che andiamo subito a vedere dobbiamo andare a parlare con un'altra persona quindi lo facciamo immediatamente che qua dietro tutto molto molto semplice devo raccogliere alcuni alchemy stirster e ci daranno in premio dei salt knife questa volta in modo previdente ho liberato un pochino l'inventario vi faccio vedere una cosa giusto prima di cominciare perché la la questa ci porta a pochi metri quindi insomma dobbiamo andare qua davanti ma è molto molto semplice vedete che ogni tanto magari riceverete o con l'arch pass su cui faremo un episodio dedicato o per altre con altre cose potete acquistare queste bound expansion scroll sono delle possibilità di espandere l'inventario potete espandere dai 50 che avete sia la banca sia il vostro zaino premendo il più e poi vi posizioni in automatico e vedete che si aggiunge una riga quindi abbiamo 60 l'inventario adesso cosa che ci sarà molto comoda credo io debba scendere io tengo sempre il pet lì in modo che si piglia l'esperienza anche lui che è importante che salga anche lui perché acquisisce abilità salendo di livello livello 20 inizia a fare il morso insomma quindi non è un pet da combattimento però dovrei farlo col robottino che mi aiuta a combattere ma ripeto questo è un personaggio secondario quindi mi servirà essenzialmente per usare il labor point per il crafting quindi potrebbe essere comodo potenziare l'alchimia su questo personaggio l'ho potenziata anche sul principale sul main ma perché non farlo anche qui abbiamo raccolto i tisto li consegniamo ci viene data la ricompensa e si va avanti si va avanti con la quest ora dobbiamo processare come abbiamo fatto anche l'episodio scorso quindi in pratica useremo in automatico i coltelli che abbiamo qua su questo non posso farlo mentre sono a cavallo quindi devo processarli vedete che lo faccio ne ottengo uno poi ovviamente se premo shift più il tasto destro vado a farli tutti fino alla fine quindi vedete che ogni 10 me ne da 10 sto diciamo creando queste erbe curative medicinal powder polvere medicinale che sono un elemento importante di crafting e adesso li faccio tutti 10 ok e abbiamo fatto e ora devo fare il report di nuovo a lei completiamo la questa ci paga in esperienza ci paga in denaro ora ci sono due tipi di pozioni base le pozioni di cura e le pozioni di mana devo fare ora parlare al a questa e poi acquistare la veiled flame da un alchemy merchant allora io parlo a lei e poi andiamo a cercare l'alchemy merchant che onestamente non so dove sia ma presumo sia qui vicino perché i tavoli da alchimia sono qui infatti è qua e acquistiamo il veiled flame lo acquistiamo purchase preso ok ora si torna da lei ora completiamo anche questa quest altri 17 silver per noi ora cosa dobbiamo fare prendi una di queste veiled frame porta la ok va bene ok allora andiamo sempre in fondo dai una pozione a questo tizio qui al bambino ferito così ci fa vedere come funziona e ci da altre polveri medicinali ora vai a dire a lei vedete tutto molto molto semplice per alzare la l'abilità consegniamo ricordo anche questo ovviamente si può fare dopo il livello 30 ora completiamo un'altra quest e krafta la ash star potion usando un tavolo d'alchimia il tavolo d'alchimia è questo non sappiamo dov'è scriviamo uscid h u esce ascia sta veled e si completa da solo tac la craftiamo con questi elementi che abbiamo ma che al momento necessitiamo di un elemento che è la veiled flame che abbiamo scoperto poco fa che vende il l'alchemy merchant quindi ne compriamo clic col sinistro e lo shift in modo metodo a quantità ne compriamo dieci ora dieci ma in realtà ne ho comprati troppi perché me ne basterebbe fare soltanto uno quindi di nuovo ashed star come pozione vedete ne posso fare e non ho dieci me ne servivano per farne una soltanto ok ottimo allora ho fatto bene e chiede 8 20 20 lavanda 8 polveri medicinali e 10 di quella veiled che ho comprato lì perfetto craftata la medicina veniamo i pagati con altre porzioni altre erbe medicinali ora dobbiamo andare dal guardian season che da tutt'altra parte infatti andiamo a vedere che lì a metà mappa quindi bec dire godetevi il viaggio ed eccoci arrivati ci abbiamo messo relativamente poco dovete fare molta attenzione ai mostri perché sono di livello pari al vostro quindi se siete al talenta anzi sono di qualche livello superiore ok consegniamola questa prossima missione crafta ashed star portion usando alchimia il tavolo d'alchimia devo craftarne un po devo craftarne una trentina alchemy merchant vediamo un attimo adesso quante ne abbiamo a share star ne abbiamo un po allora vediamo di nuovo dovremmo avere abbastanza elementi per farle tutte 9 credo ne crafti 10 alla volta quindi ne facciamo due ne dovrebbe fare una ventina quelle che ci mancano per perché ne fa 10 alla volta quindi 20 infatti e 30 perfetto completata anche questa andiamo qua vedete intanto la nostra professione sta salendo perché stanno salendo anche il labor point che ci investiamo perfetto ora si va avanti craft misti memory portion usando l'alchimia il tavolo dell'alchimia allora crafta misti memory portion allora vediamo un attimo come si fa misti scusate misti memory vediamo se ne possiamo fare 3 esattamente 3 quindi ne craftiamo 3 che poi tecnicamente dovremmo averne 30 dopo questa recupera mana dopo aver fatto le pozioni di vita vedete infatti dice usalo 3 volte e graffatene 30 infatti ne facciamo 3 da 10 pozioni l'uno quindi intanto stiamo continuamente salendo usando anche il labor point ovviamente per craftare sono 3 labor e 10 silver a ogni crafting infatti il crafting ci costa soldi completato ora dobbiamo andare molto lontano dobbiamo andare dall'alchemist juder che è praticamente clicca sulla quest map si va in fondo la ok buon viaggio ok eccoci arrivati ho fatto un giro abbastanza largo perché appunto non potevo permettermi di affrontare i mob ma è tutto fattibile con la giusta pazienza si arriva anche senza combattere senza sparare un colpo consegniamo la questa e ci prendiamo alchemy profissi in si 5000 perfetto abbiamo accettata un'altra questa ora craft a un after non portion usando un alchemy table anzi mi sa che ok cinquemila cinquecento vedete abbiamo già fatto metà del primo livello ora dobbiamo andare al tavolo d'alchimia che è questo ovviamente scendiamo dal nostro farone qua ok per craftare le after non le after non sun non possiamo farle perché ci servono le ashed le ashed le abbiamo abbiamo imparato a farle prima quindi prendiamo le pozzoncine qua una decina di queste ok e poi facciamo le ashed allora intanto vediamo after non sun quante dobbiamo farne una ce ne servono dieci dieci pozzoncine quindi andiamo su ashed star ne facciamo una decina quindi una craft a craftiamo queste e adesso possiamo fare le after non sun craft con i funghi le erbe medicinali le polveri medicinali che stiamo accumulando dall'inizio di questa serie di quest e facciamo anche questa perfetto abbiamo fatto e ora completiamo altezza qua di fianco ok ora ci dà una missione molto speciale dice sempre così insomma dobbiamo trovare old shirt in the theater tent nella tenda qua dobbiamo trovare una vecchia maglietta ok la recuperiamo commissione complicatissima devo dire che la consegniamo poteva farsi due passi ma va bene la logica degli mm o è questa ok questa missione ci dà anche un boost scroll che ci aumenta per 24 ore la profission si ci sono anche queste pozzoncine queste piccole cose qui ora dobbiamo andare all'alchemist damir in green wolf sandip quindi sandip è dall'altra parte del mondo in pratica sandip è una sorta di depressione all'interno di hell swamp praticamente vedete è qua sopra quindi ci sono diversi modi per accedervi potete o scalare le montagne qua in fondo e calarvi giù col glider oppure prendere il percorso qua sotto cosa che farò io ora perché non posso stare lì a scalare montagne per due ore ci vediamo direttamente la ed eccoci arrivati vedete quella nave enorme serve per i trasferimenti tra regioni sono una sorta di trasporti pubblici gratuiti siamo arrivati eccolo la andiamo a fare proseguire questa quest sull'alchimia salve ci vengono date le pozioni ci vengono date anche dei fiori e ora abbiamo un'altra quest usa l'alchemy expert secret scroll e craft una mid summer meteor allora andiamo al tavolo dell'alchimia mid summer la meteora di mezza estate vedete non la possiamo fare perché la profission si richiesta è di 10.000 quindi in questo caso il gioco ci fa provare l'utilizzo di una scroll che ci consente di alzare per 24 ore lo vedete qua nel buff in alto a sinistra di 50.000 quindi tra l'altro vediamo un attimo mid summer ci chiedeva 10.000 vabbè siamo a 55.000 quindi siamo un livello altissimo in questo momento però vabbè la craftiamo mid summer scusate sono uscito la facciamo con anche i fiori narcisi che ci ha dato craftiamo facciamoci costa 20 silver 20 copper e 10 labor quindi pochissimo la craftiamo e abbiamo provato anche le scroll di boosting ovviamente alla fine di tutte queste quest poi pian piano cercherò di coprirle tutte otterremo un vestito come questo signore qui che ci darà più 5000 a ogni proficiency se indossato completamente ci vengono dati in che vocation badges in questo caso e adesso non so se ve ne avevo già parlato in altri video ma vedremo adesso di spiegare cosa sono anche quelli o magari ci faremo un video a parte ora anzi tra l'altro vabbè adesso ci sta faccio ce li fa usare lui quindi in onestamente non me lo ricordavo quindi meglio così e andiamo a farlo allora andiamo in questo mercante questo mercante vende vocation badge merchant ci vende solo cose che vengono acquistate con questi vocation badges io ne ho così tanti ma quello è un discorso a parte sul perché ne ho così tanti meno dati 45 devo comprare i fiori di margherita quindi compriamo i lili seed più un punto di trovarli adesso lili seed ne compriamo uno comprato e devo portarlo all'alchimista damir che è quello dall'altra parte quello di prima ci dà 100 margherita ora un'altra quest ci sta andando un botto d'esperienza perché stiamo comunque faremo un livellino adesso sono partito a livello 33 siamo al 72 per cento quindi insomma andremo avanti quindi crafta una sun's glory potion usando ok quindi sun sun's glory potion la possiamo fare usando le margherite e i lili che ci ha dato credo che le margherite siano i lili quindi vabbè craftata questa a posto riparliamo col tizio che ci dà la ricompensa ora andiamo avanti ed è un continuo di fare queste quest porta l'alchimist certificate to banquet manager che è il mine bluegrass ok andiamo all'interno di questa regione dobbiamo spostarci un pochino abbiamo tra l'altro anche una quest qui ma credo sia tutt'altro quindi andiamo qua bisogna fare attenzione perché i mostri ah ok no questi qua sono solo manichini per l'addestramento e una quest da fare attenzione sono tutti di sorta di animi animali finti per poter allenarsi a colpire è una regione molto bella devo dire che ci sono regioni proprio belle belle davvero bene ci ritroviamo ok siamo arrivati guardate che bella zona tra l'altro al di là di quelle montagne altissime c'è air swamp dove la palude dove eravamo prima ok consegniamo anche questa complete e ora bisogna craftare una desert fine potion ci sta facendo provare diversi tipi di crafting che poi saranno delle pozioni che ci rimarranno desert fire la possiamo fare sono tutte pozioni di livello altissimo e 30 mila ce ne chiederebbe di proficiency quindi craftiamo usando anche i ginko leaf le foglie di ginko gingo che non so cosa sia ok fatto riconsegniamo ok abbiamo livellato intanto siamo livello 34 ma questo è un problema mio invia 10 desert potion in golden fable harbor quindi andremo adesso qui e consegneremo ed eccoci arrivati in questa bellissima città che è golden fable harbor andiamo a consegnare la quest intanto stiamo scoprendo anche delle location che ci verranno salvate nel libro del teletrasporto consegniamo questa quest perfetto e andiamo a fare un'altra missione report al community center community center anche qui farò un video apposta dedicato al community center dove spiegherò un pochino di cose ora andiamo verso la conclusione con gli ultimi 5 mila di proficiency in modo da arrivare a 10 mila l'ultima quest è inviare un certificato alchemist in rock bone basing che è da tutt'altra parte nel mondo cioè in pratica dobbiamo andare a rock bone basing che si trova qui che è una zona di livello 40 41 dobbiamo andare esattamente non mi ricordo dove di questo qui e in pratica che cosa dovete fare qua qua c'è un portale molto semplicemente c'è un portale che dovrebbe essere quello lì rock bone world gate invece che usare il teletrasporto che per andare sull'altro contenente vi costa uno vi costa tre pietre anziché una usate il teletrasporto ovviamente dovete usare un teletrasporto anche per tornare se no se vi teletrasportate nel nostro continente d'origine andate a pagare tre pietre quindi preso questo portalino qui ci ritroviamo in un'area che non è assolutamente la nostra in un'area che è un'area di partenza dei nemici insomma dei nostri avversari gli arani noi siamo i nuiani tradotti in italiano nuian e arani e andiamo a consegnare questa questa e ottenere finalmente i 5000 restanti di profili insensi in modo da arrivare a 10.000 ormai siamo arrivati siamo addirittura d'arrivo l'accampamento lì bellissimo questo posto davvero selvaggio bello molto bello sono belle e tutte e due le zone devo dire tutti e due i continenti ok consegniamo questa questa e a questo punto abbiamo ottenuto 5000 di proficiency di nuovo quindi in questo caso non abbiamo alcun vantaggio perché ve lo spiego rapidissimamente abbiamo vabbè 10.000 più 50.000 per quella pergamena che abbiamo preso però 10 quando finirà tra 23 ore qualcosa ormai avremo 10.000 10.000 ci consente selezionando questo tastino qui di aumentarla significa che diventiamo novizi in novizio diventare novizio ci consente di andare oltre i 10.000 quindi 11.000 12.000 fino ai 20.000 purtroppo a livello 10.000 diventiamo novizi ma non abbiamo effettivi vantaggi in termini di labor prendiamo solo un 3% in meno di produzione e un 20% di esperienza in più per avere meno labor 5% quindi neanche tantissimo dobbiamo arrivare veterani a 20.000 e via via aumentiamo vedete il numerino qua in vicino dovrebbe essere la massima per rank quindi praticamente ne abbiamo una a novizio possiamo portarne al massimo 6 così via fino alla massima che è la celebrity possiamo portarne solo 2 quindi ovviamente se un domani abbiamo già il massimo 6 nel livello che abbiamo adesso novizio ne abbiamo 6 se premiamo questo la facciamo scendere al punto di esperienza più bassi del livello precedente quindi in questo caso il livello precedente è da 1 a 10.000 quindi dobbiamo tornare a 0 mi pare se non ricordo male no torniamo a 10.000 al livello al punto di esperienza massima del livello prima quindi se adesso arriviamo per dire a 20.000 poi lo abbassiamo torneremo a 10.000 a livello 1 bene in questo caso si conclude qui il video sulle quest dopo il livello 30 dopo il campetto ci siamo portati alchimia a livello 10.000 non ci saranno altre quest di questo tipo insomma le altre ve le dovete livellare lavorando in gioco però insomma è un aiuto le quest dei blue salt sono tante ancora perché ci porteranno a ottenere un campo più grande e un carretto da trasporto vedremo di farvi vedere anche quello ragazzi con questo è tutto alla prossima lasciatemi sempre un commento qua sotto se gradite queste guide e alla prossima e ciao ciao